Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una nube nera ha offuscato il tramonto sul lungomare di Martinsicuro. Intorno alle 19.30 di ieri un incendio è divampato infatti nel cantiere di una palazzina abitata lungo via dei navigatori nella zona nord del comune Truentino. Ad andare in fiamme del materiale edile è stoccato per la ristrutturazione con il bonus 110%, ma ben presto il rogo si è propagato anche ai balconi della facciata sul lato sud e in un appartamento al piano terra. I residenti si sono subito messi in salvo, il fumo però oltre agli appartamenti ha invaso anche la zona turistica del lungomare creando parecchia apprezzione tra i passanti con un fuggi-fuggi generale. Alcuni invece incuriositi hanno ripreso la scena con i cellulari, come mostrano queste immagini girate anche dalla riserva Sentina sulla sponda marchigiana del fiume Tronto. Scattata la chiamata al 115, sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Nereto, Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto. Ben 20 gli operatori con tre autopompe e tre mezzi fuoristrada con il modulo antincendio oltre a un'autobotte e un'autoscala del comando di Teramo. Ancora ignote le cause dell'incendio partito dal materiale edile depositato in un'area esterna della palazzina di quattro piani interessata dai lavori. Dopo circa due ore i vigili del fuoco hanno istinto l'incendio, hanno perlustrato gli appartamenti per verificare che non ci fossero persone all'interno. Durante le operazioni tutta la palazzina, che conta 24 alloggi, è stata evacuata. Fortunatamente non risultano feriti e anche l'enorme nube nera, visibile a chilometri di distanza tra Abruzzo e Marche, è stata spazzata via dal vento in direzione mare. Ora si attende però il risultato dei controlli sulla qualità dell'area. In corso anche le verifiche per determinare se gli appartamenti siano meno agibili a causa dei danni provocati dalle fiamme o dal fumo. Successivamente la squadra di San Benedetto è stata impegnata anche per l'incendio di una palma all'angolo tra via dei Pescatori e lungomare di Martinsicuro. Sul posto intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per le indagini sulle cause del doppio rogo.